All right, allora, sempre con Peter Colosimo eravamo rimasti, arrivati addirittura al quinto capitolo Incubiti pietra e stavamo parlando dell'isola di Paus. Eravamo rimasti a, come dire, una fantasia fantascientifica che ha preso qualche scrittore di fantascienza riguardo l'isola di Pasqua, cioè che un romanziere americano fa di Pasqua addirittura il frammento di un mondo esploso e piovuto sulla terra. Purtroppo non specifica quale. Sarebbe stato interessante leggere questo romanzo. So che diversi romanzieri hanno basato romanzi di fantascienza sull'isola di Pasqua e sui suoi misteri. E come ho detto, purtroppo, è passata di moda. Dunque, naturalmente si tratta di una ipotesi del tutto irreale, ma non dà un po' l'idea di un asteroide, quell'isola da incubo persa nell'immensità dell'oceano e del cielo? Quando Roggevin vi sbarcò, trovò 5-6 mila persone. Io credevo che fossero 3 mila. Cioè, probabilmente le stime variano. Comunque, ho letto da diverse parti, credo che anche quel discutibile individuo di Alberto Angela ha parlato di 3 mila persone, che dovevano ben presto ricevere impressioni tutt'altro che buone sui loro ospiti. Nel corso di una sparatoria ingiustificata, come capitava sempre con i bianchi colonialisti, 12 indigeni vennero uccisi e da quel giorno la storia dei Pasquani fu un succedersi di disgrazie. Io continuo a chiamarli Pasquani, ma io credo che si dica Pasquensi. Nel 1859 e nel 1862 approdarono all'isola bande d'avventurieri peruviani senza scrupoli, che ridussero le schiavitù e deportarono nelle terre del Guano l'intera popolazione, compreso il re Marata. Il vescovo di Tahiti, Josen, rivolse a Lima una vibrata protesta di ottenere i patri degli infelici. Adesso, a quanto ne so io, l'isola di Pasqua appartiene al Cile. Non so in che situazioni vivono, ma mi ricordo che da bambino gli abitanti avevano la proibizione di lasciare l'isola. Pensate un po'. Dovevano essere gli anni di Pinoceo. Comunque, se non erano, erano anni molto più dittatoriali. Insomma, in Sud America vigevano parecchi regimi dittatoriali. Ancora adesso non è che sia in cima ai regimi democratici in Sud America, però c'è stato un certo progresso, per cui anche la democrazia è avanzata e credo che finalmente hanno dato il permesso agli abitanti di Pasqua di emigrare dall'isola, se vogliono. Ma ben pochi tornarono, portando per lo più in patria il vaiolo, la lipra e la sifilide, con parecchie altre malattie contratte nei luoghi malsani in cui erano stati costretti a lavorare. Nel 1864, quando sbarcò a Pasqua il primo missionario, padre Eiro, trovò soltanto più poche centinaia di individui macilenti, che però il capitano della stessa nave su cui era imbarcato il religioso giudicò adattissimi ad essere venduti come schiavi nelle piantagioni taitiane. Cento pasquani tornarono così a conoscere i tormenti della deportazione. Ai pochi abitanti rimasti, la sorte preparava un'altra disavventura. Essa piove nell'isola con un imbroglione chiamato Dutroux-Bornier, il quale, asserendo d'aver comprato quella terra dai re di Taiti, a cui sembra appartenesse non sappiamo a quale titolo, si padronì dell'unica ricchezza degli indigeni, alcuni gregi di scarne pecore, ed instaurò un regime tanto tirannico che i pasquani, nonostante fossero timidi e mitissimi, finivano per assassinarlo in questa mente. A questo punto io sinceramente dico che non si può fare torto a questi poveretti che ne hanno, sono sicuramente stati condotti fino all'esasperazione, anzi già prima avrebbero dovuto essere stati condotti all'esasperazione. Molto re di Taiti, Tati Salmon, l'isola venne ereditata da una certa famiglia Brander, che nel 1888 la vendette al Cile, del quale è ancora oggi l'unica colonia. Resta ancora parte del Cile a quanto ne so io, adesso non so però se con una maggiore autonomia sarebbe opportuno cominciare ad interessarsene. Magari farò qualche video proprio specifico sull'isola di Pasqua, penso che se lo meriti in fin dei conti, anche perché quei poveretti forse un po' più di attenzione se lo meritano anche loro. Quando si parla di Pasqua, la prima immagine che si presenta alla mente è quella delle gigantesche teste di pietra, monumenti che sono fra i più strani ed imponenti della Terra. Essi vennero ricavati dalla pietra vulcanica. Nell'interno di un cratere ne furono scolpiti 300, poi sati e trasportati a piattaforme distanti fino a 16 chilometri. Alcuni di questi colossi pesano la bellezza di 30 tonnellate e la loro altezza varia da 3,50 a 20 metri. Ne esiste uno non terminato, poi, che misura ben 50 metri. Una roba notevole. Interrogati sull'origine del significato delle grandi statue, gli abitanti dell'isola non saperò mai dare alcuna spiegazione. Ciò si deve senza dubbio al fatto che con il re Marata furono deportati i saggi pasquani, i custodi delle tradizioni, che certo avrebbero potuto raccontare cose interessantissime non solo sul passato della loro patria, ma anche sulle più antiche ed enigmatiche civiltà della Terra. Questa è un'illazione sua, no? Può darsi che avrebbero raccontato anche storie delle terre da cui venivano gli abitanti dell'isola di Pasqua, perché appunto, cioè, è vero che geneticamente appartengono al gruppo melanesiano, però culturalmente, perché un conto sono le origini genetiche di un popolo, un conto sono le origini culturali, perché un popolo può assumere la cultura, le tradizioni, la lingua di un altro popolo, pur mantenendo lo stesso DNA, perché non ci sono stati particolari incroci, ma un popolo a contatto con un altro popolo, se si tratta poi tra l'altro di un popolo più evoluto, ovviamente la cultura meno complessa, meno sviluppata, tende a soccombere rispetto alla cultura maggiore, no? Quindi capita che popoli cosiddetti selvaggi abbiano osservato la cultura di popoli civili, noi ce le troviamo magari con appunto i pasquensi che hanno il DNA dei milanesiani, però le tracce culturali che troviamo nell'isola di Pasqua partengono ad altre culture, alcuni hanno fatto paragoni con gli Inca del Perù, altri con la civiltà dell'Indo, di Mohenjo D'Aroa Rappa, essamente 4.000 anni fa, quindi c'è, mistero c'è, nonostante quelli che dicono che non esiste il mistero in archeologia, esistono solo cose che non fanno, ecco, vabbè, è difficile ripetere certe frasi senza mettersi a ridere, ecco, io faccio molta fatica, io cerco di essere rispettoso, mi vienno a ridere a tante affermazioni. Dunque, erano rimaste, è vero, alcune tavolette di legno non isolano, incise con caratteri che ricordano in parte sia i geroglifici dell'America precolombiana, sia quelli scoperti pochi anni fa, nella valle dell'Indo e risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo, ecco, lo dice anche lui, cioè che questo mistero, non sapevo anche che ci fossero somiglianze con le scritture dell'America precolombiana, quella è una cosa da verificare, però la somiglianza con la scrittura della civiltà dell'Indo, quella è indubitabile, mi ricordo a suo tempo di aver visto anche un'illustrazione con il raffronto fra le due scritture, no, in cui indubitabilmente si trattava dello stesso identico tipo di scrittura, con uno stile diverso, ma i simboli erano gli stessi, no, e quello è sconcertante perché la civiltà dell'Indo è praticamente all'antipo di rispetto, cioè, se non all'antipo di quasi, rispetto all'isola di Pasqua, no, cioè, significa, e anche molti secoli dopo, cioè l'isola, la cultura dell'isola di Pasqua risale al tardo medioevo, al basso medioevo, addirittura forse al rinascimento, ecco, mentre la civiltà dell'Indo appartiene all'epoca della costruzione delle piramidi, secondo la dicitura ufficiale, cioè, 2500-3000 anni fa, 3000 anni avanti Cristo, quindi c'è anche un lasso di tempo, un vuoto di millenni fra l'uno e l'altro, no, si dice, ma la cultura che ha fatto da Trette d'Union, dove era, dove si trovava, e non è stata ancora scoperta, è stata sommersa dal mare, quella è la prima cosa a cui si va a pensare, no, ma sono cose su cui si, cioè, ci sono parecchie cose da dire, anche perché l'India, come ho detto, ha un alto tasso misterico, ci sono molti misteri archeologici, e quindi il problema dell'isola di Pasqua e del suo legame con l'India fa parte di un problema più vasto, che è appunto quello del mistero della civiltà indiana, dell'origine della civiltà indiana. Dunque, ma sembrava impossibile giungere a decifrare quella misteriosa scrittura. No, naturalmente Alberto Angelo, quando fece il suo documentario, si guardò bene dal parlare di questa somiglianza della scrittura di Mohen Jodaro con l'isola di Pasqua, perché naturalmente avrebbe dato l'impressione di voler dare ascolto a un certo tipo di eresie, ecco, no, quindi, probabilmente anche per quello che ha detto quella scemenza, no, in archeologia non esistono misteri, proprio per dire, non costringetemi a parlare di certe cose che imbarazzano. Allora, mi sembrava impossibile aggiungere a decifrare quella misteriosa scrittura, no? Perché tra l'altro la scrittura dell'Indo è indecifrata, non è stata trovata la stile di Rosetta in grado di permetterci di tradurre dalla lingua dell'Indo, che tra l'altro la civiltà dell'Indo non ha neanche un nome, noi non sappiamo neanche come si chiamasse, no? Viene chiamata civiltà dell'Indo perché è sul fiume Indo e anche le città di Mohen Jodaro e a Rappa non sono i loro veri nomi, nomi che usavano gli abitanti, sono nomi che sono stati dati in base al luogo dove si trovavano, almeno per quanto riguarda Mohen Jodaro, che significa, credo, collina dei morti, che è il nome che davano, appunto, i locali prima che venisse scoperta la città sepolta, che davano nome alla località, perché in qualche modo sapevano che c'era una città di morti là. A Rappa non so, ma immagino che anche quello si... cioè noi non sappiamo, non conosciamo nulla della lingua dell'Indo, si suppone che fosse una lingua travidica, non sappiamo come si chiamasse questa civiltà, bisognerebbe trovare, ecco, magari una stella di Rosetta con il sumerico, con il cuneiforme sumerico accanto alla lingua dell'Indo, perché il periodo era lo stesso, indubbiamente ci furono dei legami fra i sumeri e la civiltà dell'Indo, lo dice anche quel pirla di Zecharia, non c'era una cosa notoria. Tant'è vero che c'è stato qualcuno che ha fatto anche dei raffronti, dei paragoni, tra la cultura polinesiana, le culture oceaniane, con i sumeri, no? Quindi cioè ci sarebbe tutta una serie di connessioni non ben chiarite fra i sumeri, la civiltà dell'Indo e i polinesiani e le culture dell'Oceania in genere, no? Tutte cose da discutere, tutte, da valutare, non pretendo certo di risolvere il mistero io, però perlomeno elucidare il problema, no? Far capire quanto vasto è quello. Speriamo di riuscire a farlo con l'aiuto della lettura dei libri di Peter Colosimo e altri magari anche. Comunque purtroppo anche stavolta sono prossimo alla chiusura e restiamo appunto sul tema della scrittura dell'Isola di Pasqua. Arrivederci. Grazie a tutti.